Ciao ragazzi, bentornati a una nuova puntata, che sarà attiva la quattordicesima, della mia libreria. Ve l'avete chiesto in tanti, quindi rifaccio, anzi faccio, un nuovo video su quelli, questi qui, su tutti i libri che ho. Allora, questo reparto l'hanno già visto, mancano tipo tutti questi qui, quindi faremo una scorsa velocissima a tutti questi romanzi e libri. Allora, Joyce, ritratto dell'artista da giovane, e questo è un artista felice di vivere, e questa sarà la mia fine se continuo a scrivere e a fare le recensioni su YouTube. Herman S, Peter, vabbè, questo ha sempre questi nomi strani, pure questo non è che si è tanto messo bene, insomma, vedo che tra questo e questo non si sa chi ha più voglia di morire. Allora, la romana, Alberto Moravia, lui si è sbizzarrito con un'illustrazione coloratissima, aveva molta voglia di pensare alla copertina. Ah, Virginia Woolf, gli anni, pure anche lei qui, un'illustrazione molto molto evocativa. Chris si è fermato a Eboli, che è finito la benzina, si è fermato a Eboli, pure qui non c'è un cavolo, c'è proprio un reparto, niente, proprio una felicità. Tre camerati, anche qua avevano una copertina molto blasfee, c'era qualcosa di diabolico questa copertina. Mondadori, le sono edizioni praticamente di cento anni fa. Lo straniero, Camus, questo è tipo un buco nero, una macchia di sangue blu, non si sa che cos'è, ma si drogavano quando facevano le copertine. From l'arte di amare, questo me lo ha consigliato il mio amico Damiano Cicchetta, che saluto. Questi due che stanno a fare, che stanno a succhiare un dito, ma che stanno a fare, boh, vabbè. Poi, Wild, De Profundis, oh, vedi, una copertina già un po' più cristiana, ha un capellone, un ciccione che sta guardando chissà che cosa. Hermann S. Peter, ma cacchio, questo è il doppio, ma Peter e Peter sono il doppio, vabbè, ce ne ho due. Chi vuole questo libro, lo regalo a 5 euro, lo regalo a 10 euro. Tutte le poesie di Quasimodo, vediamo questo tizio ottocentesco, stile emo, forse è stato lui a lanciare la moda di quelli che si tagliano le vene. Hemingway, addio alle armi, vediamo due soldati che stanno tipo per andare a giocare a golf con una camionetta. Dostoyevsky, umilati, umiliati e offesi, pure sti due, mamma mia, stanno proprio a pezzi, se si mettono insieme a quell'arte, fanno una comitiva dei depressi. Dostoyevsky, i cara, sì, buonanotte, i fratelli Karamazov, 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 sti stronzicosi qua che stanno a giocare a carte, eppure loro, non si fanno leggiata, sta signora qua, questa è quasi morta, cioè un signore, una signora, chi è? Sono quasi morti, non c'è niente da fare, questo giovane invece di fare i compiti, questa giovane è una donna, c'ha le tette, sì, invece di fare i compiti aritmetica sta a giocare a pochere con sti malati, vabbè. Dostoy, resurrezione, vediamo qua una tizia, una specie di contadina, che cavolo è questo velo bruttissimo, che sta leggendo, ha la luce di una specie di abbajur tutta gialla, vediamo qua, luce, luce qui. Poi, Boiardo, Orlando, innamorato, questo qui, che cacchio è sto coso che esce? Ma sta copertina è pornografica, ma che cos'è? Vabbè, non l'avevo mai visto. Orlando, innamorato, due, giustamente, e questo è Garzanti, se avete queste edizioni, non vedete queste qui, verdi e arancioni, bruciate, no, non è vero, regalatemele, vendetele, perché io le adoro. Stevenson, il master di Ballantra, Ballantree, Ballantree, vediamo qui una copertina in cui non c'è un ca... Cioè, c'è solo un paesaggio, vabbè. Guerra e pace, Tolstoi, il primo volume, 8 milioni di pagine. Qua, ovviamente, riprende uno scorcio della società descritta da il grande... Ma che cavolo del grande? Tolstoi, guerra e pace, secondo volume, altre 500.000 pagine. Dickens, grandi speranze. Vediamo qua, oh, vediamo una copertina, anche qui gli animalisti non saranno d'accordo, perché c'è un cane che traina un coso, un carretto con uno che... Ma che cazzo è bianco? Ma che cacchio è? Sta suonando una tromba con una frusta alla 50 sfumatore di grigi, io non ho parole, che cacchio copertine da ubriachi, li fanno George Elliot e Middlemarket. Vediamo qua, un prete che sta correggendo i compiti a una sua bambina, a una sua figlia, non lo so, e qui tutti quanti che correggono chi sta correggendo i compiti. E questi fanno da platea a tutta questa scena simpaticissima. Allora, vi farò vedere... anzi, vi faccio vedere anche il secondo reparto, ma prima devo togliere i libri davanti. Eccoci qua, come per magia tutti i libri sono spariti. Allora, questi sono libri di un'edizione, non si sa, tipo duecentesca, però li adoro perché sono vecchi, puzzano e quindi sono bellissimi. Allora, Gianni Rodari, favore al telefono. Questa è un'opera d'arte, questo libro, però lo metto sopra, se no non c'è più. Allora, Musil, i turbamenti del giovane Torless. Vediamo qui un tizio carinissimo, dal profilo impeccato. Buzzati, un amore, bionda e occhi scuri, occhi vie, come cacchio c'è là? Vabbè, comunque, vediamo una giovane dal viso squadrato che sembra essere una giovane, molto carina. Stirpe di drago, questa invece è venuta da un reso, ha appena fatto una pera e quello che è lo sfondo è quello che lei vede. La bella estate di Pavese, una ragazza con due uccelli come sfondo, e lei ride, quindi un chiaro segno e un chiaro messaggio che a questa ragazza piacciono gli uccelli. Poi, niente di nuovo sul fronte occidentale. Questo romanzo me l'ha consigliato il mio professore di storia, Paolo Matera, il grandissimo professore, ma in copertina c'è un psicopatico che sta guardando con aria maliziosa una farfalla. Quindi tra uccelli e farfalle, insomma, qui c'è una ragazza a cui piacciono gli uccelli e qui c'è un uomo a cui piacciono le farfalle, quindi non so, decidete voi perché. Fiesta, il sole sorgerà ancora. E qua vediamo uno molto felice a questo di vivere con uno stile tipo Gucci. Poi, oggi si vola. Questo qui non si sa, cioè questo si è appena fatto tre pere e sta guardando, sicuramente starà guardando la ragazza a cui piacciono gli uccelli e si starà facendo due domande. Il deserto dei tartari, qua c'è uno con un cavallo che sta entrando non si sa dove, cioè dietro sembra esserci tipo il sole e davanti le tenebre, quindi anche questa copertina fatta da dei malati mentali. I 49 racconti di Hemingway, oh, vediamo questa ragazza che sta vicino a non si sa che cosa. Io mi immagino che questa sia la mia figlia, dice papà mi sono fidanzata, con chi? Boom, e te entra questo qua. E lei tutto questo con un fucile, quindi il padre si sarà ammazzato. Canne al vento, Deledda, questo ha vinto il premio Nobel e questa è la faccia di Deledda appena l'ha vinto. Poi, l'amante di Lady Chatterley, ma non mi fate leggere cose in inglese, io lo sapete che io non so capace. Questi due, oh, sto io stanno a fa sesso, ce voleva tanto. Quello guarda gli uccelli, questo guarda le farfalle, questo invece se l'è trombata. Luigi Pirandello, la vita nuda. Ecco, vediamo un raccolto Pirandello che si sta facendo i calchiutari e vediamo che sta tenendo in mano niente, però lui la mano la teneva così, era così e c'aveva i suoi problemi. Luigi Pirandello, l'uomo solo, porace, ecco, questo è proprio, vediamo Pirandello che era un grande amatore delle donne e in realtà sulle copertine stava sempre solo come un cane. Cesare Pavese, la spiaggia. Oh, questa copertina è meravigliosa. Vedete, ha una finestra, una porta finestra aperta, sto tizio che è corso, diciamo, sulla spiaggia, ma si è fermato, però è vestito, giustamente perché uno in spiaggia ce va con i jeans e il maglione. Natalia Ginzburg, madonna, questa è un'attrice della Madonna. Caro Michele, questa copertina è carina, dai, è carina, un po' tipo metafisica, perché c'è una casa che sembra una fattoria, se no è una fattoria con sto mulino bianco che gira, anzi mulino rosso, un letto, giustamente, senza potrasso fuori, e cose insensate che stanno sparse per la copertina. Gabriele D'Annunzio, l'innocente. Oh, questo è D'Annunzio quando si faceva, non lo posso dire, vabbè, lo dico. D'Annunzio aveva una specie di malattia mentale, diciamo, perché era malato D'Annunzio, e si faceva defecare in faccia. Oh, io so che sto facendo schifo, ma è una cosa reale, reale, reale. Gabriele Garcia Marquez, si fiori bruciati in copertina, bellissimo. Ancora Marquez, ancora altri fiori, ma che faceva, giardiniere, altri fiori a Marquez, ma che ha deciso. Marcel Proust, un amore di Swan, oh, finalmente una gran figa in copertina, solo Proust poteva mettere una figa in copertina. Fitzgerald, belli e dannati, due tavolini e una sedia e una bottiglia, ma come cazzo apparecchiavano i ristoranti al tempo di Fitzgerald. Victor Hugo, l'uomo che ride, ammazza, se stava ammazzata alle risate, immaginavo se non rideva come stava. Mon Passat, la casa tellier, oh, vedi, questo qui ce l'ha quasi fatta, a me sembra Van Gogh che sta con la sua prostituta preferita, dovete sapere che Van Gogh si è innamorato di una prostituta. Charles Bukowski, storia di ordinare a follia, un, non si sa, pure questo che si fumava per fare una copertina simile. Allora, poi c'è Jack London, il tallone di ferro, e poi c'è in copertina un tallone con dei tacchetti di ferro, bellissimo, lo sto commuovendo. Groger, Groger, Thomas Mann. Allora, questa copertina è assurda, cioè c'è un uomo gobbo secco con un chiodo, con un cappello bianco che sta camminando sullo sfondo, una foresta metafisica anch'essa. Poi, ma che è qua? Ma chi è questa? Ma chi è? Ma questa sembra una cinese che fa i massaggi che è appena fatta la dolce. Vabbè, Filippo qua, boh, non ce ne interessa niente. Mille e una notte, questo è uno tra, uno dei cosi, uno dei libri, ma vedete, è un po' sfondato, e in copertina c'è, oh mio Dio, oh mio Dio. Questo mi sembra Osho col papà. Cioè, Osho, appena illuminato, che va dal padre, è questo tipo, è l'editore che ha pubblicato tutti i suoi libri. Poi, l'ultimo, basta, la sto facendo troppo lunga, Flobell, educazione sentimentale. Oh, lui lo sta buttando direttamente dietro e ha fatto la cosa migliore. Grazie ragazzi per aver visto il video di 150 minuti, io vi voglio bene, ci vediamo alla prossima recensione, ciao!